7 dicembre 2010, Fiorenzo Magni brindava i suoi 90 anni, festeggiato da tutti gli amanti del ciclismo. Per loro, Magni resterà per sempre il leone delle fiandre, il terzo uomo nell'etterna sfida tra Fausto Coppi e Gino Bartali. Fiorenzo Magni se n'è andato, nell'ultima volata della sua vita, quasi 92 anni. È stato uno dei grandi protagonisti dell'epoca d'oro del ciclismo italiano. Toscanaccio come Bartali, Magni è rappresentato uno spaccato dell'Italia del dopoguerra, delle sue infinite sfide con i suoi grandi rivali. Il suo curriculum racconta delle sue tre storiche vittorie consecutive nel Giro delle Fiandre, che lo consegnarono alla storia, dei successi nei Giri d'Italia del 48, del 51 e del 55, con la famosa fuga con Coppi nella tappa da Trento a San Pellegrino, dell'abbandono della maglia gialla al Tour de France del 1950 per il ritiro dalla corsa insieme a tutta la squadra italiana, in seguito alle pressioni e alle insistenze di Bartali, che era stato aggredito sul Col d'Aspen da alcuni spettatori francesi. L'ultima uscita pubblica di Magni risale a pochi giorni fa, il 12 ottobre, nel Salone d'Onore del CONI per la presentazione di un libro a lui dedicato, Magni, il terzo uomo. Fiorenzo ebbe dalla sua l'avventura di non somigliare né a Coppi né a Bartali, è scritto nella prefazione del libro Sergio Zavoli, e quindi di essere pari a loro per prestigio e popolarità, ma con una personalità anche agonistica, che per qualche verso addirittura sopravanza i suoi due primari rivali. Insomma, un campione a tutto tondo, un asso della bicicletta, un eroe del ciclismo che ha consegnato alla storia qualcosa di più delle sue vittorie. Una delle foto più belle di quel ciclismo epico, diventata immaginario collettivo, lo ritrae mentre stringe un tubolare tra i denti. L'altra estremità era legata al manubrio per continuare a correre, nonostante una spalla rotta, per una caduta. Sì, sì, ma è stata una caduta sciocca, è picchiata la spalla, e poi dopo tre giorni, purtroppo, dopo questa, si è partita a moda nella rapata, sono caduto sulla frattura, ho provato la mattina ad andare su, non ce la faceva, allora il mio meccano mi ha detto, tagliamo un tubolare, e tu con la camera d'arra c'è dentro, infatti non sono riuscito a non mettere i piedi a terra, è una cosa che ricordo con tanta nostalgia, con tanto amore, con tanto affetto. Come faceva Fiorenzo a tenere quel tubolare in bocca? Com'è che riusciva a respirare poi? Sembra difficile, ma non era difficile, perché era legata al manubrio e l'altro teneva in bocca. Da giovane aveva lavorato nella piccola impresa di trasporti del padre Avaiano, facendo le consegne in bicicletta. Un po' alla volta la bici divenne una passione, nel 36 iniziò a gareggiare con l'associazione ciclistica pratese, passò dilettante nel 38 con l'associazione ciclistica Montecatini Terme, dove gareggiava anche Alfredo Martini, mettendosi subito in luce. La svolta arrivò nel dopoguerra, nono al suo primo giro d'Italia nel 47, l'anno dopo il giro lo vinse e poi replicò nel 51 e nel 55.